In un momento in cui si parla di rimpasto a Palazzo del Carmine, Caltanissetta protagonista interviene sottolineando la propria posizione in merito all'operato dell'amministrazione Ruvolo. C'è una inettitudine a parte di chi ci sta governando in questo momento che è scandalosa. Più volte con il nostro consigliere comunale Totti Petrantoni abbiamo cercato di stimolare e cercare di dare il nostro punto di vista, ma purtroppo non avendo i numeri al comune non riusciamo chiaramente a fare breccia. È chiaro che se c'è da una parte responsabilità del sindaco e dell'aggiunta, dall'altra secondo noi c'è una grave responsabilità del PD e tutto il centro-sinistra che appoggiano ancora oggi il nostro sindaco. Noi abbiamo iniziato il nostro programma il primo dicembre del 2013 ed è ancora attuale, condiviso da più persone rispetto a prima. Purtroppo nelle elezioni non ha fatto sì che Michele Gerratani, il nostro leader, potesse diventare sindaco, ma chiaramente le idee sono ancora fattibili. E se il sindaco Ruvolo volesse chiaramente aprirsi al dialogo, così come dice sempre, visto che lui parla sempre di dialogo con tutti, noi siamo sicuramente nelle condizioni di poter dare il nostro contributo. A noi, come abbiamo scritto anche nel comunicato questa mattina, amiamo fortemente questa città e se non fosse per questo sicuramente l'avremmo abbandonata, anche perché notiamo un'apatia. E se diciamo che ancora oggi incontriamo gente che si è pentita di avere votato il sindaco Ruvolo, questo ci permette di andare avanti, perché è chiaro che se da una parte ci dispiace che due anni fa il nostro leader Michele Gerratani non è potuto diventare il sindaco, oggi siamo più che mai coscienti del fatto che Caltanissetta protagonista è l'unica vera forza centrodestra che può oggi dare qualcosa in più a Caltanissetta e cercare di ricombattare questo centrodestra che ahimè oggi è disunito.